Giovani esploratori della mente, io vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, come avrai detto dal titolo, parliamo di conformismo sociale, un fenomeno estremamente diffuso che avrai sicuramente toccato con mano sulla tua pelle. Perciò siediti, mettiti comoda o mettiti comodo e parti con me per questa nuova avventura. Gli esseri umani sono da sempre animali sociali e questa è una delle frasi più ridondanti che sentiamo sempre dire. Siamo nati per formare gruppi, per aggregarci e fare attività di gruppo e stare sempre insieme appassionatamente. Siamo così interessati a stare insieme agli altri, ad amalgamarci ad un gruppo di persone che a volte trascuriamo la nostra individualità. E addirittura facciamo scelte o compiamo azioni di cui pensiamo di essere padroni, ma che non è assolutamente così. E questo ce lo conferma il noto e famosissimo Ash, che non è ovviamente l'allenatore di Pikachu. Ash è uno psicologo degli Stati Uniti che ha condotto un esperimento dalla semplicità disarmante ottenendo dei risultati straordinari. E ti racconterò questo esperimento per spiegarti in modo pratico e concreto cos'è il conformismo sociale. Ash ha preso un gruppo di persone e ha mostrato loro un segmento, una semplice linea di una determinata lunghezza. Una volta mostrato loro il segmento, Ash diceva loro Ok, avete visto un segmento di una determinata lunghezza, quali era tra queste tre? E gliene faceva vedere tre di riferimento, tra i quali dentro c'era il segmento che loro avevano visto. Le persone non dovevano fare altro che indicare il segmento che avevano appena visto con i loro occhi. Un compito semplice, direte voi. Ash ha fatto eseguire questa prova alle persone sia in gruppo, sia singolarmente. Forse avrai già capito dove voglio andare a parare. Quando le persone svolgevano l'esercizio singolarmente, senza perciò un gruppo di persone, rispondevano ovviamente nella maggioranza dei casi nella maniera corretta, indicando il segmento che avevano visto davvero. Ma quando erano in gruppo, questo simpaticone di Ash ha modificato un po' le carte in tavola. Nelle situazioni di gruppo, Ash ha sostituito tutti i partecipanti, tranne uno, con tutti degli sperimentatori, perciò dei ricercatori, degli scienziati, che stavano conducendo l'esperimento con Ash. Quindi il soggetto reale dell'esperimento era uno soltanto. E Ash si metteva d'accordo con loro per scegliere in modo apposto e fatto apposta il segmento sbagliato rispetto a quello che i soggetti avevano appena visto. E quali sono stati i risultati? I risultati sono a dir poco sconvolgenti. Immaginatevi voi, in una situazione di gruppo, dove vi chiedono di vedere questo segmento, mettiamo A, B o C, e voi siete sicuri di aver visto C, poi andate a confrontarvi con un gruppo di persone e tutti, tutti, dicono A. Come ti sentiresti? Davvero non ti chiederesti neanche se puoi aver sbagliato, magari, nell'osservare il segmento? Sei davvero sicuro della scelta che hai fatto? Cavolo, tutte le altre 15 persone dicono A. Forse avranno ragione loro. Infatti, i risultati confermarono proprio questa ipotesi. I soggetti più del 50% dei casi, su tante prove diverse, si conformavano al resto del gruppo cambiando la propria posizione. Un risultato davvero disarmante che ci fa capire davvero quanto noi esseri umani siamo attaccati all'opinione e al giudizio delle altre persone. Perché a livello psicologico, quello che subentrava di meccanismo era quello di una creazione di una norma di gruppo. Vedere il segmento A era diventato una norma di gruppo e tutti i membri del gruppo sentivano la pressione di dover aderire a quella norma. E infatti, come abbiamo visto, nella maggior parte dei casi così è successo. Ma allora una domanda sorge spontanea. Ma davvero basta così poco per farci cambiare opinione, per spingerci in una direzione che magari normalmente non vogliamo o non ci siamo diretti? Beh, la risposta è no. O comunque la risposta è dipende. Dipende dal soggetto, dipende dalla situazione, dal contesto in cui avviene e quanto è pesante la pressione che il gruppo ha esercitato di noi. Quanto noi siamo disposti ad abbandonare la nave se la direzione che prende non ci piace. Dalla nostra capacità di pensare in modo lucido, anche se magari le cose ci stanno un po' sfuggendo di mano. Se hai un gruppo di amici è probabile che tu assista a questi fenomeni quotidianamente, sempre e da tantissimi anni. Ma magari non ci hai fatto davvero caso. Oppure hai pensato che se tu ti andavano in un posto e tu in quel posto non ti andava neanche così tanto, ad esempio mettiamo un pub, ma magari non è così male e quindi ci sei andato comunque. Quello è esattamente un episodio calzante di conformismo sociale. Ma non abbiamo ancora risposto ad una domanda fondamentale. Ma allora, ma perché le persone si conformano? La risposta potrebbe sembrarti ridicola, ma in realtà è la banale verità. Le persone si conformano per evitare il disagio sociale, per evitare di fare una brutta figura davanti a tutti, oppure di essere categorizzati come la pecora nera, la persona che deve andare al di fuori dei canoni. Le persone si conformano perché conformarci ci dà sicurezza, ci dà protezione. Se è tutto il gruppo che magari si conformano alla decisione sbagliata, la diffusione di responsabilità va su tutti. Perciò io sì, ok, ho sbagliato, ma hanno sbagliato tutti. Non sono l'unico responsabile. Cosa che invece sarebbe se io non mi conformassi e agirsi di testa mia, poi mi assumo la completa responsabilità e l'unica responsabilità mia di aver sbagliato. Ed è un processo molto rischioso per molte persone. O addirittura può anche succedere che le persone si conformano per non spezzare la coesione di gruppo. Siamo magari tutti un po' sovraeccitati, siamo tutti carichi, quindi si crea una sorta di legame, di gruppo. Ogni persona si sente parte di una cosa più grande, perciò andare contro e spezzare l'entusiasmo è un po' da guastafeste, perciò preferisco aderire, conformarmi e via. Non voglio passare mica come i rompiscatole della situazione. Certo, c'è anche da dire che conformarsi non è che è sempre sbagliato, però sicuramente una cosa che possiamo dire è che è sempre meglio agire lucidamente, perché una cosa la vogliamo davvero fare, che agire sotto la pressione di qualcos'altro, o di qualcun altro. Perciò adesso vediamo tre consigli su come agire più consapevolmente per accorgersi di queste situazioni. Numero uno è per l'appunto accorgersene. In una situazione di conformismo di gruppo sentirai sicuramente la pressione esercitata da un gruppo o una persona in particolare. Tu non dovrai fare altro che accorgerti di questa tensione data da una pressione che tu in realtà non vorresti. Numero due, confrontare in modo maggiormente lucido, visto che ci hai portato appena la tua attenzione, la situazione e la scelta da apprendere in relazione ai tuoi valori. Se ad esempio tu devi andare a sparare al poligono, ma per te utilizzare le armi è una cosa sbagliata, dovrai fare i tuoi calcoli. Esempro proprio random, a caso. Fase numero tre, accorgerti. Quindi di conseguenza con maggiore consapevolezza se vuoi aderire in modo lucido a quel comportamento che sia di gruppo o meno, oppure agire di testa tua e scegliere di rinunciare o scegliere un'altra opzione. Giovani esploratori della mente, noi per questo video abbiamo finito. Spero che ti sia stato utile e se è così fammelo sapere con un bel mi piace, commentare come sempre con la tua esperienza personale, iscriviti al canale e noi ci vediamo come sempre alla prossima pillola psicologica.